Un importante passo avanti nella presa in cura di chi affetto da scompenso cardiaco merito delle convenzioni siglate dall'AISC con l'ospedale Vannini e il San Raffaele, fondamentale l'apertura di una struttura ad hoc presso il poliambulatorio di Via Arce. È un progetto ambizioso ma che va nella direzione che il paziente ci chiede. Il paziente con scompenso che arriva è un paziente complesso dove la patologia nasce dal cuore ma coinvolge un po' tutti gli organi, il polmone, il rene, quindi ci sembrava importante assicurargli una molteplicità di interventi che è un percorso cosiddetto ideale che vedeva dal pronto soccorso al ricovero nel reparto, alla riabilitazione fino al medio del territorio una continuità. Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda senza dubbio la continuità in termini di assistenza. Più che di trattamenti innovativi l'aspetto nuovo è proprio la condivisione della presa in carico globale del paziente con scompenso sia nella fase acuta, qui al Vannini, sia nella fase post-acuta, quindi riabilitativa, presso l'IRCS San Raffaele. È nata la collaborazione con AISC perché però ha avuto una particolare evoluzione, una particolare preziosità perché ci consente di essere aiutati dai pazienti stessi ad aiutarli, a curarli meglio. Un nuovo modello per la gestione ottimale dello scompenso cardiaco in Italia, ecco il titolo che accompagna la tavola rotonda a cui prende parte pure la Regione Lazio. La cosa che stiamo già facendo assieme all'associazione, all'AISC, in questa visione per cui non è importante poi chi fa le cose, cioè bisogna coinvolgere tutti i soggetti, pubblico, associazioni, cittadini, soggetti privati accreditati, soggetti pubblici, è quello di costruire un percorso per le persone che hanno uno scomperso cardiaco, un percorso che in gergo si chiama PDTA, percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, che permetta fin dal momento della prevenzione, fino proprio a seguire passo passo le persone, una presa in carico dei soggetti che hanno questo problema. Pazienti protagonisti senza dimenticare l'attività di ricerca, di informazione e soprattutto di formazione, ecco cosa offrirà da qui in avanti il primo centro di scompenso cardiaco.